Oggi in questo nuovissimo video, oggi siamo qui con mia cugina, saluta, ciao, più alta voce, ciao, e mia sorella che siamo in collegamento su discord, ciao, ok, oggi giocheremo alle bad wars, prima devo togliere questa roba qua, ed eccoci, siete pronti? Noi mi lagherà un po' perché è il suo tablet che non è che va tanto bene, però facciamo fine di niente, entriamo nelle bad wars, hai visto dove c'è il letto gigante, devi schiacciare la play su play toro, la cosa oro, gli ha lo spawn, e ragazzi ho una brutta notizia per voi, mia cugina non può, perché lagga troppo, giocherà in altri mondi e vabbè, intanto giocherò con mia sorella, spero che si diverta, che in teoria, ecco, così, lei è già dentro qua, se non l'avete capito, che per me l'avete capito, se è nelle bad wars, cioè nel server di emerald, tu, Emma, ah eccoti, ciao Emma, Emma, dirati, ciao, facciamo in trio, in trio, in trio, dai, facciamo in tre, andiamo, edo, sei andato? In tre, dove c'è scritto 3 vs 3 vs 3, capito? Non mi, non mi va entrare, non so cos'è, io odio queste nuvole, eh, ma poi, perché ci ha messo così alto? Eh, facciamo, eh, ok, sto entrando, sto entrando, aspettami, sì, ma io non voglio uscire, eh, solo per le nuvole che ci sono, ecco ti andrà, siamo solo noi due, eh, un attimo, te la dovrebbero essere, ok, eh, sì, dobbiamo, un po', oh, mio Dio, un pochino, attendere, ho capito, perché tutti hanno messo solo? Perché qua non ha detto, facciamo una partita solo, e quindi tutti hanno messo solo, schiaccia il letto, Emma, ci sei? Andiamo in solo, no, andiamo in duo, così forse possiamo stare insieme, ok, io sono dentro, aspetta un attimo, che sto entrando io, mancano 40 secondi, mi dice, ciao, stiamo vicini di qua, qua, qui sopra, ok, ciao, ciao, attaccati dobbiamo stare, perché, ragazzi, noi vogliamo stare insieme nelle Bad Wars, non ho mai provato una partita con, insieme con Emma, vabbè, speriamo, eh, ma per me non staremo neanche insieme, non so come fanno a stare insieme i giocatori, però, ti prego, ti prego, ti prego, non staremo insieme, no, tu che colora sei, Emma? Blu, blu, io rosso, ok, così mi prendo tutto, aspettiamo, penso proprio che così... Andrea, tu che colore sei? Eh? Tu che colore sei? Ce l'avevo appena detto, non mi ricordo, è rosso, lo dice pure Noemi, Noemi, Noemi non dovevi parlare, Noemi è stata espulsa, lo scherzo, solo che poverino non può giocare con noi, non vedo, chi, mi so, mi so spaventatissimo, facciamo così, è andato, è andato a prendere i diamanti, devo prendere un po' di diamanti, non prenderli tu ti prego, voglio i diamanti, così mi incierto un po', no, 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 mio, 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 un secondo me, diamanti sì, mio, perché mi è venuto questo, non lo so, ah, diamanti, diamanti, aspetta, ah, sono già incierto anch'io, non lo so più, non lo so più, non lo so più, siamo su di giocatore, ah, Emma, se non importa te, cioè se non importa te, Emma, la mia isola importa la tua, se tu sei blu, il tuo compagno ha fatto un ponte, no, il mio rosso sta venendo da te, ti sta distruggendo il letto, no, schifoso, guarda, guarda, cosa gli faccio, lo faccio così, adesso, no, ti ha distrutto il ponte, Emma, no, cioè io non l'ho nemmeno fatto quel ponte, no, 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 stavo facendo la patta, non sono stato io, non sono stato io, te lo giuro, adesso, io non l'ho nemmeno visto quello là, adesso non sai cosa, cosa gli faccio, ragazzi, hanno ucciso me, ma con il lag, con il lag, cioè, allora, faccia sempre in due, sì, tu sei già entrata, sì, sono dentro, ah, ok, aspetta, oh, eccoti, ya, 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 e ma sono grigio che che triste ma anch'io sono grigio ah io sono bianco allora aspetta si sono bianco ah sei la ok tu dove sei io sto cercando di distruggere il mio letto tu dimmi di che colore sei io sono bianco ok sto presto proteggendo il letto ok così bene ma io lo permetto cioè il mio compagno non ci prova nemmeno a il mio è già morto il mio è già morto cioè ok quella rossa forse vuole venire da me allora se viene da me io so cosa fare faccio funzione anzi un'idea tut 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 sto sono girato non ci guardiamo un po su un po giù allora noi andremo qui che non ho mai visto questo posto non è che si prende l'oro oh no certo perché è qui normalmente ciao pepe popu pepe popu pepe popu pepe popu pepe popa nuovo giocatore super il collo il madone 7 di oro mi rendiamo questa allora poi facciamo questo 40 di ferro it's a 40 di ferro it's a ok no via 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 no 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 cosa avete visto avete visto avete addocchiato con gli occhialini dolci 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 ah non ci sono panda un panda un panda povero panda povero povero ah mi piace la mia nuova skin ok se volevo volevo ecco quella armatura infinite ah no non funziona invece io un giorno fare cioè dopo farò video che farò il video in cui giocherò al nascondino con mia sorella e mia cugina perchè tanto è un server privato e allora posso entrare solo io e mia cugina e mia sorella se vi chiedete perchè pepe popu è stato ucciso tipo ucciso nel virale ciò più netto no poco 0 .p고 il libro i War di vendum giro l che la n Joe in questi qui non posso piano questo l'ho comprata no no ok vabbè stavo votando ok una bella spadina me la prendo una tnt me la prendo io vorrei prendermi tu di che colore sai non ho capito io non parlo più però io sono sono di colore bianco ok bisogna essere trasportata da te davvero ah ma sei morta si il rosso non c'è più ha pensavo che c'era ancora però ha sei morto ha ha che l'ha ucciso esattamente davanti a te prendi un po' di diamoni gli dico se ci sono un po' di smeraldi no dimmi se proprio se ci eh ragazzi non dite che sto barando perché io uso i miei metodi eh però allora eh ma dimmi se tipo ci sono dei criminali tipo là ne vedo uno blu ok bravo bravo si si ok io intanto corro dopo allora al centro non vedo per ora nessuno solo questo è blu è che è il blu quello che mi ha inteso no allora allora ti diventico una filatezza mmm ma si ho anche l'armatura ingantata non l'avevo visto ok prendiamoci questi qua poi prendiamoci velocemente guarda quanto andrea eh ah no 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 perché ti volevo dire vai a prendere il mio oro però il mio oro è nell'ender chest non credo che tu lo puoi prendere no non posso non posso grazie mi ha dato gli smeraldi questo no perché non li ho presi sei il criminale prenditi amati prenditi amati no che stavano li ho presi stavano li ho presi perché erano li prendi la cosa c'è sto che ma sta zitto ma va ti ho rivendicato amma ti ho rivendicato amma grazie è appena arrivato il non ma non importa ok così eccolo qua e se io faccio perché sempre ok cadi si il mio amico ha buttato giù il blu ancora una volta bravo 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 ok c'è c'è uno che finge di essere bella faccia vabbè perché non so facciamo 3 vs 3 dai un attimo chi sei? tu hai detto quale? 3 vs 3 questo ok vediamo vediamo bene entrando in quanti siamo in 2 nella partita allora emma facciamo così ritorniamo alla hub e andiamo in 2 vs 2 ok ragazzi ragazzi stiamo per iniziare subito oh no sono oh sono no sono con Andrea ta Andrea Andrea i si ciao 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 come fai a sapere come fai a saperlo perché c'è scritto il suo nome timma come fai a sapere che è il tuo compagno perché lo vedo io sono già in partita io sono nemmeno dentro ah ragazzi faremo questa partita da soli non so che dirti io devo uscire perché ah incontriamoci in un mondo che fra poco diventerà un server come che potete entrarsi pure voi andiamo ci è guarda e ragazzi questo sarà il mio server costruito con tutto l'aiuto ci ho messo un sacco cioè allora è molto bello e ci ho messo 5 mesi con l'aiuto di mia cugina e mia sorella voi non lo sapevate non ho parlato anzi è ancora prima del canale che avevo iniziato questo qui volevo fare il server ancora prima del canale poi annunciarlo boh non so dove dovevo ancora decidere e iniziato a farlo adesso che ho creato il canale fra poco vi darò l'ep di questo server e lasciate like iscrivetevi ah vi faccio vedere qualcosina qualcosina ah le dovrò ancora mettere le regole tanto qua appena entrerete ci saranno già e eri entrata Emma Emma e eri entrata si ora sono uscita guarda mi avevi detto che non entravi vabbè allora ragazzi ragazzi qui farò tutte lo spawn sarà qui così ci sarà il mio castello un po' di cosine quella lì è la mia villa e vabbè tutti avrete una casa basta che scriverete su un altro muro che metterò qui scriverete voglio una casa voglio una casa io vi cerco una casa vi scrivo un cartello con sopra il vostro nome poi io quando se rientrerete troverete cioè non troverete nessun cartello cioè il tuo cartello è distrutto che non c'è allora un attimo eh ok avevo detto che non c'è più vuol dire che voi dovrete andare in giro per il villaggio che sarà un po' difficile poi metterò anche delle modifiche in giro per il villaggio e a cercare la vostra casa che è pure bello così voi tipo andrete in giro per tutto tutto così qui lascerò tipo dei cartelli tipo eh babbli caribù se vuoi entrare entri scrivi che vuoi la casa cartello vado scrivo car farò così car te perché perché non me lo dà ah perché adesso voglio adesso adesso lo voglio eh eh ah in sé segna eh vabbè farò scriverò casa a capo bu bu li cari no aspetta ho sbagliato cari bow che è che è un mio amico eh vi lascio eh vi lascio allora nei commenti ci sarà un mio commento dove scrivo il nome del canale del mio amico e lì iscrivetevi e lasciate like anche un altro mio amico che si chiama xz giochi eh iscrivetevi e lasciate like e sempre i suoi e i loro video così dovrò mettere dovrò mettere perché non trovo male cose ok il suo colore preferito è l'arancione allora noi facciamo tic facciamo tic ecco qua immaginatevi vi chiamate bubbly caribou o anche con altri nomi state girando bubba 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 questa non è la mia questa non è la mia ma bubbly caribou questa è la mia casa con qua ci sono le case ricche che sono dei cioè di quelli boh miei preferiti però adesso non le darò a nessuno perché perché non vi pot allora va bene ve lo dico qui c'è la lana rossa sì ve lo dico ormai non voglio sperchiare il fiato per niente fra poco aggiungerò l'abbonamento al mio canale se riesco o anche fra un po' e quelli che saranno abbonati allora avranno queste ville qua tutte queste tipo arredate ma belle grandi non come le altre così con tutte che potete mettere tutte le cose di sicuro non si potrà griffare vari griffatori che entrano e tanto io avrò il backup e se ci preferite io entrerò nei vostri mondi e vi azzannerò come un panda solitario no scherzo eeeh va bene questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto vi faccio vedere una casa di poveri che l'avrete tipo questa ecco questa sarà la vostra casa se non vi abbonerete però se qualcuno entra prima così allora sceglierò la casa con cura e non metterò questa questa qui è solo per i banditi che mi fanno un po' arrabbiare li metto qui nella casa con le porte di ferro così non possono uscire però sono carine a me piacciono sono carine da vedere un po' piccole c'è anche la casa del fabbro che è sempre tutta questa guardate quanto è grande adesso la faccio vedere meglio questa sarà la casa di pubblica riluce bella poi vi faccio vedere anzi in un prossimo video farò il tour di tutto il mio server e al prossimo video Andrea out